Benvenuti a questo appuntamento speciale, oggi è qui con noi il Presidente Carlo Tavecchio, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Presidente, tutti la conoscono, quindi non ha bisogno di presentazioni, ma le faccio questa domanda, se dovesse raccontare a un bambino che ci sta seguendo, magari davanti a un cammino acceso, chi è Carlo Tavecchio e cosa ha fatto nel mondo del calcio, cosa direbbe in un minuto? La prima cosa che direi è che ho scritto due favole per i ragazzi, una a una mia nipotina per mostrargli com'era il gioco del calcio e l'altra per la nazionale italiana, non ho preso un euro, hanno fatto di tutto per dire che scrivevano, tutti presentano un libro in televisione, io ho scritto due favole e le ho date gratuitamente, però ripeto, non è polemica ma è solo una considerazione. ecco, il suo percorso è legato anche al mondo dei dilettanti, però l'ha portata ad arrivare fino ad essere il presidente della FIGC e quindi ecco, so che lei ne va molto orgoglioso di tutta la sua carriera. Soprattutto io vengo dal mondo dei dilettanti, io nel 74 costituisco una società di calcio dilettantistica nel mio paese in quanto io ero sindaco e non avevamo spazi per il tempo libero, costituiamo questa società di calcio che arriva al campionato di eccellenza dopo vari percorsi di 7-8 anni. da lì nasce il mio rapporto con la federazione milanese, il compianto Cendali mi chiede di dargli una mano, io lo faccio, poi succedono quei fatti che tutti sanno, arriva un commissariamento a Milano per situazioni particolari che avevano in quel comitato e mi chiedono di dare della disponibilità, do la disponibilità, contrariamente a quanto si prevedeva, divento presidente del comitato regionale Lombardia e poi succedono quei fatti gravi alla Lega Nazionale dei Dilettanti, la famosa storia Rieti-Pomezia, la partita della schedina e quindi praticamente io entro nell'arengo romano nel 99 e quindi divento presidente… Arriva nel palazzo, sai che tutti chiamano il palazzo che decidi. Nel palazzo io arrivo a Roma e praticamente nasce questa nuova Lega che io personalmente credo di avere cambiato con filosofia specifica per la rappresentanza sotto l'aspetto politico che cominciamo a cambiare le regole, cominciamo a cambiare la parte sportiva, cominciamo a cambiare la parte economica, poi con la legge Melandri arriviamo praticamente ad avere una rappresentanza del 34% che poi tutti si domandano cos'è il 34%, il 34% è il 100% della torta meno il 2% all'AIA fa 98%, meno il 10% agli allenatori, meno il 20% dei calciatori diventa 68%. 68% in Italia ci sono solo due categorie di calciatori, i professionisti e i dilettanti. 34% e 34%, così vi dà la fortuna la stura di dirlo perché tutti si domandavano cos'è questa cabala, non è una cabala, è un calcolo di… Matematico, matematico, statistico di una divisione, aritmetico. Allora le faccio vedere questa foto così iniziamo anche ad entrare nel vivo e mi dice, partiamo da qui che forse è l'apice, mi permetto di dire, dal punto di vista tecnico sportivo della sua carriera Antonio Conte. Sì, guardi, ero a Mangaritiba in Brasile e il presidente Abete si dimette dopo quella sconfitta e era agosto, agosto, elezioni urgenti e il problema era il mister della nazionale, c'era un problema economico perché la federazione non è che era una che paga molto rispetto alla concorrenza. Sì, sappiamo che l'ingaggio del commissario tecnico è sempre stato diverso rispetto ai top club. Però io ho avuto la fortuna di incontrare dei dirigenti della Puma. Ecco, ma quando nasce questa idea? Nasce ad agosto del 2014, quando io sono in vacanza e un mio amico mi chiama e dice ho visto che stava partendo per il mare Conte. Quindi ecco, le voglio fare questa domanda, quando Conte lascia la Juve con la nazionale non c'è nessun contatto, nessun accordo, preaccordo, perché è stato scritto di tutto, non c'era niente. Conte lascia la Juve per i suoi motivi. Conte lascia la Juve per i suoi motivi e come stile io non sono mai intervenuto in situazioni dove c'era un interesse. Poi le dirò se interessa altri due casi che riguardavano De Biase e praticamente altri. Praticamente Conte mi dice che io costo. Così, diretto. Il mio problema era quello di capire dove reperire le risorse, perché come federazione avevamo un budget della metà di quello che chiedeva. Ho avuto la fortuna di incontrare il dirigente della Puma, abbiamo trattato il mese di agosto, io mi trovavo a Selva in Val Gardena, ho fatto 15 giorni di trattative. Io non ho visto la montagna, sempre con l'America, perché era la direzione generale della Puma, a quell'epoca era in America, e abbiamo portato a casa altri due milioni che sono bastati, aggiunti ai nostri, tanto ormai diciamo le cifre che sono cogniti a tutti. E Conte assunse la nazionale, fece quello che fece, creò un grande senso di community, creò un grande senso di bandiera, però non è che abbiamo vinto, siamo arrivati... Però per la squadra... Per quello che era successo, prima, e per la squadra a disposizione, tutti abbiamo visto. In Spagna abbiamo abbattuto un sacco di gente. Un grande europeo, ecco, ma nel rapporto con Conte cosa mi puoi raccontare? Era un rapporto molto confidenziale, avevamo rapporti anche con la famiglia, era una persona squisita, abbiamo fatto un mese insieme in Francia, lui era un grande giocatore di flipper. Flipper? Sì, io invece giocavo a boccette. Quindi uno col flipper e l'altro con boccette. Sì, però noi avevamo i rapporti, io giocavo, la mia coppia era con Sharawi, contro Insigne e contro Immobile, e vincevamo quasi sempre noi. Invece Conte era un giocatore di flipper, passava un tempo sul flipper. Sul flipper, ecco, e poi cosa è successo? Nasce questo rapporto, a un certo punto finisce l'esperienza dell'europeo, sappiamo i risultati. Onestamente siamo stati contenti più della costruzione di un'Italia nuova, di un consenso popolare dal punto di vista della bandiera, che non del risultato, perché quando siamo andati a tirare i calci di rigore siamo a estero detto. Ma le dico una cosa, guardi, nel mese che siamo andati in Francia, io ho fatto tutti gli allenamenti con loro, naturalmente a vederli, no? Certo. E tutte le sere, un'ora, c'erano i calci di rigore. Lui aveva lì una lista. Cioè sono stati preparati, sempre. Il migliore, lo dico su, era Eder. I rigori che tirava Eder non ha sbagliato uno in un mese. Però, vabbè, quando non ho fatto l'urrà alla partita, quando è uscito lui ha detto, chi se la sente? Ma doveva tirare fuori la lista, no? Che dire chi se la sente? Subito Zazà e Pele... C'era una lista, bisogna seguire la lista, non andare... Ma dai la lista, no? Ma lo dico confidenzialmente. Ma lui come ha spiegato? No, no, abbiamo parlato di questo. Però se mi avessero detto che giochiamo con la Germania, quelli sbagliano due rigori su cinque e noi siamo eliminati... Non ci crediamo. Ma guardi, è meglio non parlarne. Poi si arriva alla separazione. E io sul tema della separazione ne voglio anche chiedere come mai Conte dopo due anni, tre anni, va un po' in rottura? Adesso parleremo della nazionale, però anche con i suoi club... Nel nostro caso fu un'offerta pazzesca. Io non posso dire le cifre, ma... L'offerta del Chelsea. Del Chelsea. E io quando mi è stato chiesto, ho detto, signore, prego, andate su, portate su. Quindi ha lasciato per quello. Però no, dico, per il Conte che ha conosciuto lei, il rapporto che si era creato... Il Conte che ho conosciuto io... È un allenatore così divisivo per un... Io a un certo punto avevo cercato di capirlo bene e mi sembrava che lui fosse affezionato anche fisicamente alla nazionale. Questo l'ha sempre detto lui. Poi dopo è successo che praticamente quelle offerte lì da capogiro... Sono stati irrinunciabili per lui. Perché con il suo club, prima con l'Inter, prima ancora con la Juventus, con il Chelsea, lui arriva sempre a un punto di rottura. Aveva un rapporto molto stretto. Aveva una collaborazione, diciamo, più umana... No, più umana. Sportiva, umana e anche tecnica. Tenga presente che lui, i giocatori, li trattavano tutti uguali. Non c'era mica uno... Se doveva dire una cosa a Buffon, la diceva a Buffon, come la diceva Giaccherini. Io mi ricordo quando arrivava là. Allora, tu vieni su sul cerchio dell'aria, calci a metà campo, per lei deve prendere la stoppalla... Lui è molto... Così deve passare a Giaccherini, Giaccherini va di corsa sulla sinistra, tu vai in centro, Giaccherini fa cross e tu segni. Così. Più volte l'ha fatto. Sui schemi erano... Più volte, i schemi precisi. Sempre precisi. Non sembra neanche uno di Pugliese, cioè sembra un tedesco. Mentalizzando così. Ecco, ci aveva provato anche con Balotelli, l'aveva convocato, poi... Ecco, lei di Balotelli, perché si parla sempre di Balotelli e il nazionale, perché... Non ha avuto rapporti, se non quelli... No, ma dico, che idea si è fatta per la sua carriera? Aveva potenzialità diversa. Per me, Balotelli, se voi leggete i giornali dell'epoca, dissi che Balotelli era quasi imprescindibile come centroavanti della nazionale. Ed è, credo, uno dei migliori centroavanti che ha avuto in ultimi anni questo paese. Però io non entro nel merito del perché poi non venga impiegato per altre cose. Sì, nel senso che la sua carriera alla fine si è ridotta ad essere una carriera un po' limitata rispetto alle sue potenzialità. Questo è... Fisicamente era una roba... Ed è evidente. Sì, 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 devastante. Però, insomma, non ha avuto poi... E poi come calciava anche. Sì, sì. Per il calcio è sicuramente il suo pezzo forte, diciamo così. Come attaccante poi non è mai cresciuto dal punto di vista tattico. Allora, arriviamo alla separazione con Conte, quindi arriva questa offerta irrinunciabile da parte del Chelsea e la federazione non può... Non possiamo assolutamente assumere questo onere. Come vi siete lasciati, grazie. Siamo lasciati bene, tranquilli. Io poi andai a Parigi, lo incontravi a Parigi, lo stavo andando in Inghilterra. La persona... Ci siamo lasciati in grande armonia. E da lì comincia la sofferenza di cercare... Il sostituto. Allora, facciamo così. Ci separiamo un attimo per la pubblicità e torniamo con il sostituto di Antonio Conte. Tra poco. Rieccoci. Siamo rimasti alla fine dell'esperienza di Antonio Conte come commissario tecnico e la ricerca del sostituto. Ci può raccontare come ha vissuto quei giorni? Punto subito su quello che per me era il top del momento. O comunque un top degli allenatori che era Capello. Vado a Udine con il presidente Pozzo. Ci troviamo una sera a cena. Io ero convinto di aver chiuso l'operazione. Capello. Con Capello, no? Però anche lì noi avevamo quei limiti. Di budget. Di budget. È sempre una questione di soldi. È sempre una questione di soldi. Gira e rigira. Però è stato onesto. L'ha detto corretto. E lui è corretto al punto di dire la verità. Perché molti hanno detto perché è andato su questo? Ma io ho fatto un pellegrinaggio. Non ho fatto una cosa. Vi dirò. Quindi Capello. Capello. Prima scelta. Sulla prima scelta. Seconda scelta. Io avevo avuto un rapporto ottimo con Donadoni. Quando ero vicepresidente vicario della FGC. Sì. Avevo seguito sempre la nazionale. E con Donadoni l'ho incontrato e avevamo chiuso. Era chiusa l'operazione con Donadoni. E cosa è successo? Anche a cifre abbordabilissime. Anzi ci stavo tranquillamente nel budget. Solo che il problema è... E il presidente del Bologna dice Sì ma questo ha un contratto che scadetò. E non l'hanno liberato. E bisogna riscattarlo. Ma come fa il presidente della federazione a riscattare un contratto di un allenatore? Non esiste, non sta nelle cose. Certo. E quindi abbiamo perso l'opportunità. A Mancini ci ha mai pensato? Allora Mancini era impegnato in Russia o mi pare... Sì. L'altra questione però è che ve la dico con tranquillità senza problemi di chiamare in causa nessuno mi chiama il presidente del CONI Malagò anzi mi chiama mi invita a casa sua per incontrare Ventura io vado non c'è solo Ventura c'è anche l'IPI quella sera e io ho apprezzato la richiesta perché avevamo chiuso l'operazione anche economica di interesse della federazione quindi Ventura con la supervisione di Marcello Lippi noi avevamo un club Italia dove avevamo dei responsabili Lippi entrava al posto non al posto veniva aggiunto come responsabile tecnico dell'operazione ma guardi che questo lo voleva anche Ventura non è che c'era una situazione e lo voleva anche il CONI il giorno dopo esce la notizia del conflitto di competenza tra l'IPI e la nazionale i giornali romani lo tirano fuori dicono che praticamente il figlio essendo agente io avrei potuto anche se mi passate questo termine fregarmene però erano momenti che tutte le cose io stavo tutti i giorni sui giornali sulla televisione era un Tavecchio ha detto questo un turbio cose che poi ci sono verificate tutte vere verificate bene allora io dico a questo punto qua vediamo di di capire se la Corte Federale mi dice c'è o non c'è conflitto io pongo chiedo un quesito un parere proveritate alla Corte Federale la Corte Federale dice c'è un conflitto di interessi non voglio giudicare le sentenze si eseguono e basta però però quest'uomo rimane da solo perché ormai avevamo firmato Ventura e di maniera solo e nasce il rapporto sento Cairo perché era a Torino lui mi parla benissimo mi racconta di tutto aveva fatto benissimo aveva fatto benissimo sento benissimo la persona è corretta una persona per bene quindi noi siamo partiti ma siamo andati anche bene subito sì quello che non ho capito è stato poi il rapporto successivo quando siamo andati però devo dirvi una cosa che nessuno sa perché noi non siamo stati siamo stati con la Spagna nel gironi perché io quel giorno che Conte mi disse voglio incontrare il Belgio gli disse ma perché dovevo incontrare il Belgio scusate che è il primo nel ranking che se perdiamo abbiamo un problema abbiamo un problema e poi abbiamo perso e noi abbiamo perso l'operazione la posizione e quindi siamo stati tra virgolette sfortunati abbiamo preso se noi avessimo vinto quella partita lì col Belgio non entravamo in quella situazione lì però questo è un fatto le faccio vedere questa fotografia così mi dice che ricordo ha di quella serata insomma questa è l'eliminazione quella serata fu una tragedia che però veniva non una tragedia io dissi altro dissi che sarebbe stato un'apocalisse se si perdeva perché venivamo da una situazione tranquilla sotto l'aspetto politico perché avevamo ottenuto dalla dalla UEFA perché lei si ricorderà io fui uno dei grandi elettori di Schaefering e di Infantino sì cioè non è che ne abbiamo preso una abbiamo presi due e quindi abbiamo ottenuto quattro posti in Champions anziché due un posto in Champions vale 40 milioni abbiamo fatto un'operazione praticamente anche economica che ha portato vantaggi notevoli abbiamo ottenuto quattro partite adesso dicono tutti bene 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 a Roma dell'europeo certo il che non è poco che ci ha un po' aiutato e agevolato nella prima fase dell'europeo in più abbiamo fatto il VAR per queste operazioni qua quindi dice dal punto di vista dell'extracampo abbiamo rotto la supremazia franco tedesca e nessuno l'ha capito Schaefering e Infantino parlavano con l'Italia con il sottoscritto quando abbiamo chiesto i soldi quando abbiamo chiesto le partite quando abbiamo chiesto diciamo il VAR che veniva da un accordo con Blatter ma fu subito eseguito e portato a termine quindi noi avevamo un quadro internazionale molto favorevole dopo le voglio chiedere anche dell'introduzione del VAR per restare all'eliminazione dopo sono passati un po' di anni lei che spiega ma guardi quella sera noi siamo stati sfortunati non parliamo della partita in Svezia perché abbiamo preso un autorete di De Rossi presa proprio portiere abbiamo preso un palo con Darmian un po' di sfortuna che trema ancora se avesse il palo di Darmian fosse stato portavuota palo finito e poi dopo la sera io ho avuto la sera tazza di San Siro io ho detto come la pensavo in ordine alla formazione la prima volta perché a metà tempo ecco ma la formazione quando è che l'è arrivata? la formazione mi è arrivata alle 16.30 alla Pinettina del giorno della partita io leggo la formazione ma siete sicuri di sta roba qua? facciamo giocare non facciamo i nomi comunque come fate come fate a escludere Insigne come fate a escludere Insigne che era in un momento di grande va beh arriviamo alla partita finisce il primo tempo chiamo Reali e dico oh ma non mettete Insigne? continuiamo a fare i cross da destra con gente alta a due metri e ne prendiamo neanche uno? certo non l'hanno messo ma perché dopo lei ne ha parlato con Ventura? no, non ho avuto operare più io ho finito la partita è stata fatta una cosa che mi è spiaciuta perché io ero convinto che c'era la conferenza stampa sì che andavano alla conferenza stampa non ci dovevo andare io non ci sono mai andato andavano il tecnico il responsabile anche per rispetto e Reali io sono andato in albergo ho avuto mi chiamo ma come non c'è la conferenza stampa ma come non c'è la conferenza stampa infatti sono andati via se sapevo questo io sarei fermato andavo io alla conferenza stampa a parlare a metterci la faccia a metterci la faccia purtroppo non l'ho saputo sono arrivati dall'albergo e non sono andati alla conferenza stampa è gravissimo errore dal punto di vista della comunicazione federale tant'è che poi dopo fino ad arrivare poi alle alle dimissioni che sono nate da una filosofia normale di un uomo che io sono arrivato a quella posizione e ho ringraziato sempre chi mi ha dato fiducia però davanti a una situazione del genere dove da 60 anni andiamo ai mondiali e non andiamo chiedo ai soggetti responsabili che non vorrei fare i nomi ma del club Italia e dico io uno solo non posso salvarlo che si chiama Ventura tutti gli altri vi do la mia parola che se vi dimettete stasera domani avrete l'incarico perché ho già fatto il mio giro politico e sapevo che avevo una maggioranza che mi dava questa possibilità a un certo punto alla mattina alle 8 8 e mezza si presentano tutti e mi dicono ma io se mi dimetto poi cosa succede l'altro si dimette cosa succede quando è arrivato l'ultimo che non aveva niente da perdere non era né l'allenatore non era né il responsabile che mi dice ma se mi dimetto allora se non ti dimetti tu ti faccio dimettere io non ne poteva più non ne potevo più ho convocato la conferenza stampa il consiglio ha preso la decisione però ho fatto una cosa che nell'interesse della federazione che pochi hanno capito e la dico volentieri a lei io mi sono dimesso e ho convocato l'assemblea elettiva per il 28 di gennaio dell'anno dopo così il commissario non è arrivato il giorno dopo la federazione è stata protetta ma non l'han capito questo qua cioè lei ha voluto comunque ma scusi se io mi dimettevo andavo io al giorno dopo c'era il commissario del CONI certo questa è la prassi civilistica io mi sono dimesso e ho convocato l'assemblea elettiva convocato l'assemblea elettiva novembre dicembre e gennaio tre mesi per cercare il presidente federale che non hanno trovato è arrivato poi Fabricini ma io tre mesi alla federazione gli ero dati per trovarsi il presidente in casa e questo l'ha rilevato in pochi però lo diciamo adesso e Mancini ci avrebbe pensato anche lei Mancini Mancini era il candidato però c'erano anche si poteva rivedere anche altre cose che erano cambiate però altre posizioni sì c'erano altre posizioni ci faccia il nome ma no io io sarei ritornato da Capello e da e da Ancelotti e da Ancelotti se ne era parlato anche di Ancelotti lei ci aveva pensato sì no ci avevo pensato avevo l'offerta per Ancelotti certo se quelli non si diventano che stiamo a fare scusa diventa difficile mi ha parlato di Seferin e di Infantino quindi le voglio chiedere anche la sua idea sulla Superlega su un tema di strettissima attualità andiamo un attimo in pubblicità torniamo e poi ci deve raccontare anche l'introduzione del VAR in Italia a tra poco rieccoci allora ci ha detto che ha avuto rapporti con Seferin Infantino è scoppiata questa polemica della Superlega lei che idea si è fatto lei che se mi permette vorrei dirle lei ha detto un rapporto con Infantino io visto lo stile dell'intervista le dico una cosa l'Italia era esclusa o non escluse troppo non era presente nelle scelte di fondo del sistema internazionale calcio c'era monopolio inglese francese e tedesco e spagnolo quando necessitava il problema nasce con la situazione di Platini i primi a dire che noi non potevamo permettere più la presenza di uno che aveva avuto dei problemi di quella portata è stata l'Italia e l'Italia praticamente ha costruito sottoscritto è stato ad Istanbul a costruire il sistema la nuova organizzazione che doveva che doveva andare contro quel tipo di discorso i francesi i tedeschi gli inglesi e io ho preso tutto l'est e abbiamo preso praticamente avete fatto una coalizione di 40 erotti i tedeschi l'hanno capito subito si sono aggregati ma francesi e inglesi no certo e lì nasce il rapporto nuovo in Europa facciamo l'Italia torna a contare diciamo l'Italia fa una riunione dei tutti i presidenti a Firenze si presentano in 42 certo e noi appoggiamo Ceferin appoggiamo Ceferin diamo il presidente della UEFA io faccio la relazione a Firenze ai 42 aiutato molto e devo dire onestamente da Michele Uva il quale aveva dei rapporti molto vicini con il nord dell'Europa Svezia Norvegia Danimarca Olanda io ho preso tutti quegli altri sotto a partire da Croazia Serbia Grecia Cipro tutto la Russia e il sistema i tedeschi Rummeniglia l'ha capito subito e si è passati di qua passando di qua l'operazione si vedeva alla luce del sole che arriviamo a vincere difatti l'antagonista che era contro ero un olandese non mi ricordo il nome perdette nettamente chi era Ceferin Ceferin era un presidentino di una repubblica che è grande meno del Friuli Venezia Giulia è diventato presidente lei si figuri che cosa ha fatto per noi quattro partite a Roma quattro partiti in Champions disponibilità totale per quanto riguardava qualche favore da questo punto di vista qualche favore ha dato l'europeo under 21 a Bologna dalla mattina alla sera tutto è tutto è passato se mi permette questo piccolo sfogo è passato come fosse una cosa normale no e invece c'è stato un lavoro dietro ma io sono andato una notte a Istanbul a Istanbul non che sono andato a Parigi o a Londra o a che mi dicevano ma questo è matto a Istanbul fa cosa e sono andato a Istanbul sono andato a Istanbul a organizzare l'operazione e ha organizzato questa l'operazione e quindi è andata bene perché abbiamo vinto la maggioranza ma se perdevamo eravamo morti però abbiamo ottenuto da lì nasce la situazione precedente con Josef Blatter Josef Blatter io l'avevo invitato a Roma sì ed era venuto a prendere un premio da noi Ali della Vittoria ed era stato molto contento della presenza romana mi chiama a Zurigo e mi dice Carlo abbiamo bisogno Italia per Var io sapevo neanche cosa era il Var dirò che ero molto capivo molto quello che diceva al processo del lunedì il famoso commentatore che adesso è morto che voleva Viscardi Viscardi voleva quello e io dissi a Blatter guarda che noi in Italia abbiamo già qualcuno un movimento un movimento favorevole e dice ma tu te la senti di fare io gli dissi subito prima di farlo ho bisogno di un po' di soldi perché qua venire in Italia a produrre questa roba e partimo subito difatti l'operazione partì l'Italia fu la prima ad avere questo discorso e il Var arriva con il problema nacque con l'International Board che mettevano paletti da tutte le parti ci fu una grossa difesa della nostra AIA dei diritti degli arbitri ma abbiamo superato la questione è stata introdotta e adesso ho avuto una costruzione che è arrivata adesso con tante modifiche che però diciamo dal punto di vista degli risultati mi pare che abbia salvato il 90% degli errori le faccio vedere questa foto per chiederle questo ma l'arbitro gli arbitri come si pongono nei confronti all'inizio non era d'accordo Nicchi aveva non espressamente perché non lo poteva fare come poteva fare il presidente dell'AIA italiana dire che era d'accordo su una proposta di Blatter lo conoscevate Blatter Blatter mica faceva storie Blatter quando chiamava diceva se è così bisogna è così devi fare così difatti io non so perché aveva per me è venuto in Italia gli abbiamo fatto questo agreement e lui è stato disponibile ma secondo lei l'arbitro adesso ha imparato a conviverci secondo me l'arbitro ha costruito un sistema togliendosi sempre delle prerogative man mano si è tolto una filosofia adesso devono mantenere una certa authority almeno in area per capire e quindi io personalmente ritengo che fanno male a non cedere tutta la disponibilità anche in tempo reale al VAR io ti faccio arbitrare direttamente dalla televisione quando capita l'operazione dubbia momento non che non tutta la partita la partita no ma quando l'operazione è dubbia io credo che chi te lo fa fare qui adesso voi con questi mezzi che avete ma non solo vi sezionate date anche la possibilità di recuperare situazioni che l'occhio umano non vede forse anche gli stessi designatori hanno creato un po' di confusione sull'utilizzo della VAR no? questo rigore quando guardarlo quando no il tocco di braccio quando sì quando no sì però noi dobbiamo stare attenti a dirlo questo perché i nostri designatori in UEFA sono italiani sì sì lo so però è vero però anche loro sia a livello UEFA Rosetti adesso poi c'è la Torola in Russia qui abbiamo una sorta di mercato comune europeo italiano no è vero però a tutti i livelli è stata fatta un po' di confusione nel senso che una partita si vede un'interpretazione un'altra partita si vede un'altra interpretazione mi creda che non è facile però anche con il mezzo io credo nel mezzo tecnico anche con la tecnologia non è facile giudicare un'immagine giudicare un'immagine ecco abbiamo solo sfiorato il tema della Superlega che idea si è fatto? è l'unico modo la Superlega bisognerebbe fare una battutaccia che si dice tradotta significa più che il dolor potè il digiuno certo e se dalla disperazione si è arrivati lì e nasce solo dalla disperazione economica io personalmente ritengo che questo sistema l'ho detto da qualche anno non può sussistere con questi tipi di costi non è possibile che un sistema paghi il 90% delle rendite e dei profitti se ci sono per gli utenti che fanno il servizio chiamiamoli i lavoratori dello sport chiamiamoli i calciatori chiamiamoli i procuratori chiamiamoli tutti quelli che sono in questo circo che è un circo di gente che si è arricchita che ha trovato a scapito di chi delle situazioni che poi stanno venendo a galla qui stiamo parlando di situazioni che hanno uno zero in più hanno uno zero in più sul lato destro della cifra uno zero in più non è possibile che in un sistema paese dove non solo Italia un sistema che ha colpito in questo momento oltretutto il covid ma anche prima del covid è insostenibile però lei che è stato molto lungimirante nella sua presidenza appunto con l'introduzione della tecnologia con il discorso che abbiamo fatto prima per l'elezione di Seferin come si immagina il futuro ci sarà ancora la Champions League si chiamerà Super Lega ci saranno altre dinamiche le risorse arrivano la FIFA dei campionati del mondo e la UEFA della Champions cercano di metterci dentro altri piccoli oggetti di complemento ma però quando queste squadre dicono nella distribuzione degli utili io ho detto una cosa a Seferin allora adesso avete aperto un fronte aspettatevi che vi facciano le pulci interne alla UEFA finora nessuno ha guardato i stipendi vostri nessuno ha guardato le spese vostre nessuno ha guardato i costi di investimento lei l'ha vista la sede della FIFA lei guardi la sede di Neon investimenti incredibili da dove arrivano quindi bisognerà vedere avete creato adesso un interlocutore che è prima era sopito vado bene io vai bene tu adesso c'è il problema non è che vai bene io vado bene tu io adesso muoio e tu non puoi far su il grattacielo e tu rifel bisogna trovare un equilibrio diverso che però io vi dico un'altra cosa si ricorda il caso Bosman certo nessuno diceva che la comunità europea faceva quel provvedimento lì alla fine è stato fatto ma al fine è stato fatto il problema adesso andando avanti con i discorsi che ormai sono di attualità all'attualità io non sarei certo che la comunità europea dica il tribunale europeo dica chi ha ragione chi ha torto tenuto conto della situazione pregressa esatto anche perché in questo momento il discorso Superlega è solo un attimino sta solo riposando e poi lei ha capito che gli inglesi che hanno in mano tutto il mercato dei diritti tv e compagnia bella perché i diritti tv in Italia sono un miliardo e cento un miliardo e cento di guadalà sono tre miliardi lei capisce che togliergli quel problema lì non è da poco non è di poco tant'è che dalla mattina alla sera hanno detto di no però gli spagnoli se un Florentino Perez si imbarca in questa avventura non è l'ultimo arrivato e come ripeto io sono dell'avviso che è l'operazione esclusivamente economica perché sicuramente poteva essere pensata diversamente soprattutto nella presentazione ai tifosi a tutto il mondo del calcio e poi secondo me alla UEFA si poteva anticipare non con un comunicato uno che va in barca insieme dalla sera alla mattina non dici niente mi fai il comunicato la reazione poi è stata quella ci dobbiamo fermare un attimo però torniamo a proposito di dirigenti le faccio vedere qualche foto e mi racconta qualche aneddoto a tra poco rieccoci allora dicevamo voglio farle vedere qualche fotografia e mi dice qualche aneddoto di questi dirigenti ecco questo è un mio grande amico siamo mi permetta di dire una battuta siamo due democristiani che è detto che è di Gagliani insomma noi siamo gente che ha fatto tutta una vita così insieme in equilibrio in equilibrio tra perfetto ecco ma è stato secondo lei il Gagliani del Milan uno dei più grandi dirigenti Gagliani è stato una persona molto pragmatica ha avuto la fortuna di incontrare in un momento dove il calcio stava evolvendo uno come Sacchi perché la rivoluzione di Sacchi non è stata di poco conto però c'è stato sempre la mano la mano sopra che teneva sulla testa qualcun altro e quindi essere protetti economicamente non è mica una roba da niente è un po' più facile con le spalle aperte però il dirigente del massimo livello che l'ha appoggiata tra l'altro sempre massimo livello nella sua carriera e le faccio vedere anche questa fotografia invece che ci porta anche un po' più all'attualità io ho un rapporto con il presidente Moratti di massima stima di massima comprensione ci telefoniamo siamo usciti qualche volta a cena con interisti facciamo questo è un gran signore e il signore del calcio non solo italiano un signore così non si trovi lui l'interno l'avrebbe voluto vendere non voglio fare commenti solo che il problema è che credo che lui era incline a investire i soldi oggi è un problema grosso ecco ma perché non riusciamo più ad esprimere presidenti così abbiamo visto prima Gagliani quindi Berlusconi Moratti questi sono presidenti presidenti mecenati oggi con tutto rispetto e non faccio i nomi cioè è venuta prima la passione che si spendeva i presidenti di oggi prendono lo stipendio direttore lo stipendio prendono questi davano questi prendono capito il problema ci sono soggetti paganti e soggetti percipienti questa è la mia tesi però per il tifoso soggetti paganti lui è pagante Berlusconi è pagante il tifoso andava da Moratti diceva dai compriamo a gennaio ci serve un difensore e si comprava adesso da questo punto di vista è cambiato il calcio il calcio è cambiato perché il calcio non è più romantico il calcio è un problema che però la mia meraviglia che i tecnici quelli che hanno fatto le lauree in economia e commercio non riescono a capire che è come andare sul Titanic e canto e ballo ma c'è l'iceberg qui non capire l'indebitamento globale non capire i costi d'esercizio così manifesti non capire che non si può andare oltre e significa la laurea buttata via qua e si in questa fotografia poi c'è un dirigente anche lui ha fatto tanta gavetta che è Beppe Marotta si ha fatto bene alla Juve e sta facendo bene all'Inter io dico che Marotta è una persona per bene che dà tutto quello che deve dare per la causa alla quale è chiamato ed è questa la sua capacità perché la Juve ha dato tanto all'Inter sta dando tanto e credo che sia una persona ha raccolto un po' l'eredità di Adriano Gagliani si è un saggio un saggio e adesso però anche lui dovrà fare i conti con una situazione perché scusi io sono legato sempre ai soldi ma quando lo dichiara 250 milioni di perdite in un anno con un capitale che fa ridere infatti il mercato fatto dall'Inter quest'estate è un mercato molto intelligente nel senso che è partito Lukaku e hanno incassato molti soldi è partito Hakimi hanno incassato molti soldi e l'hanno sostituito e Marotta è riuscito a creare una squadra però ci sono dei pregressi da paura lì lì paga dalla gente 6-7 milioni l'anno che ha fatto tre partite due partite bisogna cambiare io l'ho detto la settimana scorsa quando ci siamo trovati e poi io da modesto interista bisogna che l'Inter cominci a pensarci a un grande portiere alto 1,90 portiere alto portiere deve essere alto 1,90 almeno 1,90 ecco a proposito del portiere Donna Rumma questo addio al Milan lei che rappresenta guardi io gli chiedevo sempre ma hai studiato ragioneria tu hai fatto il compito di ragioneria poi è promosso vabbè è un ragazzo d'oro che in questo momento credo stia soffrendo Donna Rumma è il migliore tutti che stiamo a parlare Donna Rumma è il miglior portiere per me dopo Buffon nella fine dell'italiano esordio a 16 anni se noi mettiamo in discussione Donna Rumma è inutile e non lo so però mi pare che l'offerta che hanno fatto a Donna Rumma di là anche lì sia il doppio di quello che era l'italiano e come fa a dire di no la cosa che non quadra no perché tutti si aspettavano la favola il giocatore che ha 16 anni esordisce con la squadra di cui dice di essere tifoso quando lei ci perde 4 milioni la favola di che? che favola? non è una favola finiscono le favole finiscono le favole cominciano l'economia e queste sono aziende non sono non sono soggetti individuali uno che guadagna 10 milioni l'anno è un'azienda perché qui si parla di introiti netti di 10 milioni l'anno è un'azienda di 500 operai non è un privato se non si capiscono queste cose però siamo sempre lì in questo paese fino a quando potranno pagarli il Paris Saint Germain sicuro perché continuerà ma continuerà anche dopo i mondiali per l'idea che si è fatto lei ma guardi come dice qualcuno staccheranno la spina il problema del golfo è un altro che i carburanti fossili avranno problemi e se questi fanno i piani di investimento con il petrolio a 80 dollari e poi va a 20 faliscono pure loro ma smetteranno di fare investimenti questa è una catena di Sant'Antonio non è una roba normale quando si guarda economicamente la questione del calcio il calcio è marginale al discorso operativo mondiale e questi qui investono a Parigi perché hanno bisogno di essere là ma cosa vuole che sia un investimento del Paris Saint Germain è ridicolo rispetto al profitto e gli investimenti che fanno laggiù ma se adesso cambia la filosofia che il gas diventa un problema che il petrolio diventa un problema diventa tutto un problema avranno problemi anche loro e vedrà che arriviamo alla storia dello zero dalla parte destra togliamo lo zero dalla parte destra e mettiamo a posto i conti è la sua ricetta vediamo anche questa fotografia così mi dice di questo presidente che ha scritto la storia della Juventus negli ultimi anni guardi io con questo uomo ho un rapporto corretto e cordiale devo solo dire una cosa io ho rischiato in un momento non chiesto da me di essere candidato alla presidenza della Lega di Serie A quando ero commissario io so che quel signore non mi ha votato ed è stato uno dei voti pesanti che con quel voto io sarei stato presidente della Lega di Serie A ma questo rientra nelle umane cose e correttezza credo che in questo momento io non lo so se la situazione come sia quella della Juve perché quando c'è di mezzo la magistratura ordinaria e guardi caso hanno trasmesso gli atti alla procura sportiva il che si può rivivere si rivive una situazione del 2006 chi si ricorda cosa successe a Calciopoli nel 2006 e bisogna vedere chi c'è di mezzo è certo perché però vedremo insomma quello che stavolta però se succede non succede io credo che non succede solo l'Italia perché questi discorsi si estende perché è inutile che andiamo a martirizzare solo l'Italia ma che scherziamo un sistema calcio ma che è Sud America un po' malato perché è Sud America da questo punto di vista e prima di di salutarla di ringraziarla per questa interessante chiacchierata la definirei più che un'intervista le volevo chiedere le nuove proprietà questo calcio che sembra come ha definito qualcuno tecnicamente fallito dal punto di vista economico visto che abbiamo spaziato un po' tra l'economia e il pallone è facile dirlo che è tecnicamente fallito se uno guarda un bilancio che ha 300 milioni di perdita gestionale di un anno è un patrimonio di 500 lordi compreso la super valutazione di terreni mobili giardini giocatori e compagnia che stiamo a parlare però c'è un fatto che il calcio ha ancora un appeal sociale che non è da sottovalutare chiunque si accosta al calcio deve stare attento a non valutare l'impresa calcio solamente come impresa business c'è anche tutto il discorso sociale che va il tempo libero risultati internazionali quello che sta dietro agli investimenti che sostanzialmente noi dovremmo rivedere tutti gli stadi è lavoro è produzione quindi bisogna avere la comprensione che questo non è un argomento da toccare da persone incompetenti bisogna che venga toccato a livello di governo grazie presidente grazie a voi grazie è stato davvero un piacere questa chiacchierata con lei noi ci fermiamo qui grazie e buon proseguimento grazie a tutti